Eccoci ritornati in studio con Morito Foga, riprendiamo ragionamento inquinamento, perché? Perché noi, la cosa che la gente non sa, è che noi per certi versi siamo privilegiati nella tolleranza e siamo a sfondare di brutto anche quella. Berlusconi, tra e l'altra, cosa fece? Ma guardi, innanzitutto mi permetta di chiudere rapidissimo la questione del sindaco. Il sindaco intervistato dal piccolo giornale sei mesi fa disse che contro l'inquinamento non posso fare nulla, e le dicevo prima che non è vero perché l'ufficiale sanitario deve tutelare la salute a tutti i mezzi giuridici per intervenire, ha detto che la colpa è della regione testuale che in tutti questi anni non ha fatto niente. veramente lui ha usato una parola un po' più volgare, ma siccome magari ci vedono anche gentili, sì, o no? Bomo, ultimamente, guarda! A questo punto, vede, quando parlavo di inquinamento informativo, qualunque fosse un giornalista, anche mediocre alle prime armi, avrebbe fermato immediatamente il sindaco e ha detto, scusi sindaco, capì che vendiamo ormai meno di 30 mila copie in tutte le edizioni, a Trieste arriveremo a 12-13 mila copie di venduto a malapena, ma con pur sempre 12-13 mila pellegrini che spendi 1,20 euro per comprare questo giornale. Allora lei le può contare a fiabe a me, ma a me non posso scriverghele a chi mi paga 1,20 euro e la scusi, lei non l'ha guidato per 5 anni il tavolo della regione come assessore al lavoro proprio per la chiusura, la dismissione, la riconversione, la ricollocazione? E allora la scusi, cosa sono autocritica della sua cultura comunista giovanile questa? No, la sei fortunata perché se io ero vivo a Bresnefa, stahora lei era in Siberia con la palla e il piccone, no? Perché lei non la può venire qua a dirmi che la colpa sia della regione che non ha fatto niente e lei per 5 anni l'ha guidato da assessore regionale il tavolo della regione perché è quel che doveva fare qualcosa. E' come la Presidente della provincia Poropat che con il iniziale bisogna abolire le province e la Poropat ha spalatato. Allora, arriviamo adesso alla cosa che l'Amica ha chiesto, il decreto Berlusconi. Allora vede, qui c'è tutto un intreccio, no? Allora, Berlusconi, molla di corsa il 13 agosto, Villa Certosa in Sardegna, beato lui. Gli hanno rotto anche là. Beato lui e chissà anche Dolce e compagnia, corre il 13 agosto, tre anni fa, a Palazzo Chigi per firmare un decreto ad personam, stavolta la persona non se lui, ma se due, se due. Uno fa un decreto che sospendi per due anni, perché il decreto scade il 13 agosto del 2012, sospendi per due anni gli effetti della legge che stabilisce in un nanogrammo la tollerabilità legale delle emissioni del benzopirene. Tanto spieghiamo cosa è il benzopirene, un flash, perché se no la gente senti sto nome ma non capisci di cosa parliamo. Benzopirene è uno dei più cancerogeni, inquinanti che esiste al mondo. Come la diossina si accumula nell'organismo e non è la probabilità che fra 10-20 anni, no, c'è la sicurezza matematica che fra 10-20-30 anni uno se becca un tumore. Punto. O se becca un Alzheimer, o se becca una demenza senile anticipata, o se becca un morbo di Parkinson. Cosa fa il benzopirene? Il benzopirene è un inibitore dell'emoglobina. Cioè impedisci all'ossigeno, le molecole d'ossigeno che noi respiremo, della chance ai globuli rossi, per cui in quel momento sangue che arriva al cervello, c'è povero d'ossigeno. Questo cosa comporta? Comporta in buona sostanza che migliaia di neuroni cerebrali se spegni, ovvero se suicida, per permettere a quelli che sopravvivi di funzionare col poco ossigeno. Possi ai politici sognare. No, no, ma quei già parti avvantaggiati perché i neuroni sono già di partenza molto bassi, perché noi abbiamo bisogno di spegnerli perché ha tutto l'ossigeno anche se sono in camera perbarica. Allora, andiamo a spiegare cos'è il benzopirene. Per cui la legge dice un nanogrammo come limite massimo di tollerabilità, nella media delle 24 ore. Allora Berlusconi corri a Roma il 13 agosto, firma un decreto dove sospende gli effetti di questa legge per 24 mesi in tutte le città italiane, sopra i 150.000 abitanti, che ospiti una fabbrica siderurgica. che non è il V di Winston Churchill, ma è il numero delle città italiane che in questo momento si trovavano nelle condizioni del decreto Berlusconi. Una Taranto, l'Alta Trieste. Per dire, nel resto della regione è continuato a funzionare il decreto, la legge non male. Questo perché? Per permettere che desporare. Allora, vede, quando dicevo prima, questi 15 anni abbondanti persi dalla politica, dalla Confindustria, dal sindacato che ha comportato per centinaia e migliaia di triestini e muggesani, perché poi bisogna sfatarlo, no? Questa che è un'altra delle linee della non informazione. Cioè, il problema riguarda solamente Servola, anzi meglio ancora, quei che stanno in via del Ponticello o nelle case vicine a Servola e tutto il resto della città può godersela da parte. Infatti anche Laureni nel progetto poco tempo fa ci faceva proprio dopo il blocco del caso. Però la diossina penso che non arriva. Allora, mi che dago i dati dell'indagine epidemiologica fatta dall'Arsa, che è l'ARPA slovena, e dell'azienda sanitaria slovena sui bambini fra i 0 e i 12 anni che vivono nel comune di Capodistria. Guardate che sono dati terrificanti. Stiamo parlando dei bambini che vivono nel comune di Capodistria, non in via del Ponticello o in via dei Giardini. Tra il 27 e il 34% dei bambini che abitano nel comune di Capodistria, le frazioni dei crevatini e oltre, rivolte verso il vallone di Muggia, questi già soffri, c'è un terzo dei bambini fra i 0 e i 12 anni, di patologie croniche, la parola tragica è quel croniche, cioè che si porterà dietro per tutta la vita, di patologie croniche all'apparato respiratorio, alle dermatite, alle allergie. Quando il sindaco del Capodistria, che avrà un cognome buffo, ma sicuramente meno buffo dei sindaci di Trieste nell'operare, ha chiesto all'Arsa, che è l'ARPA slovena, di capire perché, è perché per esempio i bambini dello stesso campione, delle frazioni del comune rivolte verso Isolo Umago, questa percentuale dal 33% scendeva al 4%, l'Arsa slovena dopo un mese di monitoraggio con le centovaline che ha dichiarato, semplicemente che ogni volta che il vento da Trieste soffia verso Muggia, Capodistria, e cioè metà delle giornate che Dio manda in terra, arriva da Trieste, PM10, PM2.5, Benzapirene e Diosine, che se dalle analisi dei componenti di questi soggetti, a scrivibili, a feriera, a inceneritore e ai talcementi. Infatti basta vedere anche un po', senza andare a slovere, basta vedere anche un po' la cittadina di Muggia, che non è che abbia l'industria elevato, che riesce a superare i livelli di minimamente un po' le sottili, sì perché anche… Ecco, allora voglio dire questo, noi abbiamo chiesto dal 1998, e dunque sono passati 15 anni, è reiterato ogni anno l'azienda sanitaria territoriale di Trieste, guidata da Rotelli, poi da Zigrino, poi da Rotelli, poi da Samani, abbiamo chiesto, cioè due centrosinistra, due centrodestra, no? Cioè in par condicio. No, in par condicio, abbiamo chiesto di fare ogni anno un'indagine epidemiologica, cosa vuol dire? È un'indagine che non costa nulla, si tratta di mettere alcuni dipendenti davanti ai computer, incrociare i dati degli archivi nei computer di ospedali, centotumori, burlogarofalo, se magari sono bravi, distretti sanitari, medici di base, farmacisti e capire perché Trieste dalla bellezza di dieci anni, nel libro bianco che viene pubblicato ogni anno dal Ministero della Sanità e che per la Regione è fatto in collaborazione con il CRO, che è il Centro di ricerca oncologica di Aviano, Trieste è la città col più alto tasso di mortalità da tumori in Italia, Trieste non servo l'attenzione, perché l'incidenza non è differente tra chi vive a Servola, questo do una brutta notizia ai miei amici di Roiano e chi vive a Roiano, tutti assieme appassionatamente. Sì, a me hanno detto che, mi dicevano ancora molti anni fa che addirittura, quando venne presentata un po' una ricerca di questo tipo, l'allora proprietaria di affari ha disse eh ma se vuoi di tumore è più a Roiano, Greta, Balcola che non a Servola, e dicendo è perché lì c'erano delle cavi, non so perché. No, no, guardi, il discorso è molto semplice, l'ARPA nell'unico bel lavoro che ha fatto, perché guardi c'è stata un'eccezione nel buco nevo dell'ARPA regionale, c'è stata una relazione di 63 pagine presentata nel luglio del 2009 alla Regione, alla Procura, al Comune, a 24 soggetti pubblici, in cui si diceva, anche per i non alfabetizzati c'erano i pupoletti, le piantine colorate, si spiegava che il raggio di espansione delle emissioni della zona industriale, in particolare della feriera, è di 5 km in linea d'aria, addirittura il benzopirene e le PM2.5 arrivavano a grado a Monfalcone e persino a Gorizia in giorni di particolare ventosità, per cui, figuarsi se non a capodiste, questi sono stati consapevoli, allora vede, l'aver perso tempo, per loro si misurava magari in sedute interminabili in articoli di giornale, per migliaia di triestini, di muggesani, lasciamo perdere capodisti e altri, ma lei lo sa che il 99 noi abbiamo ospitato un ciclo di conferenze con un medico del centro tumori e responsabile del pronto soccorso del Bullo Garofalo, che abbiamo portato a parlare in tutti i quartieri della città per spiegare qual era il danno che subivano i nostri bambini o le nostre donne o i nostri anziani. Ebbene, abbiamo avuto migliaia di persone ad ascoltare, questa cosa non è stata mai ripresa né dalla stampa né tantomeno dalla politica o da... Io però le chiedo, io mi ricordo all'epoca su un'altra emittente, anche se come sempre con Trieste oggi, perché le feci io, chiedetti un po' in giro alla gente. Una mi rispondeva, ma mi stavo a barcola, un'altra persona, ma mi interessa, ma intanto sto in caso, un'altra mi diceva, ebbene ma il lavoro, come faccio? Cioè, alla fine, o per un motivo, o per l'altro, non andavi mai a quella, no, bisogna chiudere perché ci andavano. No, ma lei la devi sapere, che comportamento di... Allora, intanto bisogna, te lo dico con franchezza, Nero Rocco, c'è stato un grandissimo amico della famiglia, di mio papà in particolare, amico dei ricordi giovanili, ero bambino, 6-7 anni, nel salotto di casa mia, una sera che ha detto a mia papà, a Galliano, scusi me, in dialetto Trieste, ma non ho mai visto tanti monai concentrati in così poco posto come a Trieste. Beh, Basaglia è venuta qua anche per... Parola di Nero Rocco che del monai era diventato il filologo nazionale. Allora, mi voglio dire questo, ma uno se dovessi chiedere perché a Triesti che ha cercato di portare la centrale a carbone? A Triesti che ha cercato di portare non uno ma due ricassificatori? Cioè, questa città il sa che può venire a mettere qualunque schifezza, che viene respinta, rifiutata, coi forconi dalla popolazione e di tutto il resto d'Italia, perché a Trieste vi valeppo buono. Allora, la capacità, la mancanza di dignità individuale. La sa cosa che ne dice la gran parte dei triestini? Fogartite che ha ragione, mi dice. Ma tanto non si può fare niente. Allora, mira, guardi, sono in realtà molto cattivo, non me ne frega più niente, a meno che devo niente a nessuno, un po' di figurarsi se mi giro in due. Mia, la gente la brutalizzo, non potrei chiedergli nulla. E che dico, guardi, signora, serve esattamente a quella che ti va all'oncologo fra 20 anni, che ti va, signora, tanto non si può fare più niente. No? Ecco, la Zarchide vive a Salmeio agli ultimi mesi che rimani e poi la si ordini una fossa all'ospedale. Perché la gente? Bisogna dire così, no? Perché non si è possibile che 5.000 del loro invadi all'inaugurazione del polo pescadori, là lo scallo legnami e devi venire i pompieri perché sta crollando le palafite, perché Doz che regala tre sardonifritti e mezzo bicicletta e vin bianco che non puoi capire come si sta fatto e devi venire i pompieri e cosa che dici? Vieni in piazza a difendere la salute tua, dei tuoi fiori, dei tuoi cari, te vivi con questo odore nelle narici, te respiri, te rifondi, ma tanto non ho tempo, potrei andare in palestra, non si può fare niente. Ecco allora, giusto così, ma si giusto così, che a Trieste porti pur tutte le schifezze, la scovazzera della Dei Atti, come l'avevo definita, perché con questa politica, con questo sindacato, la guardi, la vicenda Arvedi, Arvedi non sei uno che queste cose non le conosce. Anzi, io guardavo un po' su internet, Arvedi quando ha avuto dei problemi anche abbastanza seri in Emilia Romagna, sulla diossina, a un certo punto si va a scuola del calcio, qua Arvedi, Arvedi, la guardi, non lo conosco per esempio. Cioè, io non vorrei che finiamo che in cambio magari di ti diamo un amore da un lato, lui ti dà fuori qualche euro perché poi dopo arriva soldoni. No, no, però la guardi, tutto si gioca sull'ennesima violazione della legge. La legge italiana, l'Italia fa moltissime leggi e quasi tutte pessime, scritte in modo bizantino, no? Molto del cento mila leggi, mi parlo, cosa l'assunto? Allora, questa volta ne ha partorito una decente, cioè molto semplice, dice che chi ha inquinato deve pagare la bonetica, ma d'altronde c'è una cosa di buonsenso, se lei la gaffita un appartamento e la lascia alla caparra, se lei invece del cusinare in cusina e se faceva fuoco per terra in soggiorno, il proprietario della casa si trattiene la caparra e magari gli chiede altri soldi per ripristinare alla scadenza del contratto o dell'allocazione non ho il danno. Allora, la vedi il buon di piazza, no? Perché anche sta roba divertente, no? Volemo gas natural perché ne dà le royalties, che poi lui che parla inglese, cioè se tutto dire, no? E per far questo perché così ne bonifica e ne tira via i cancheroni lassadi della vex raffineria, là dove assorge il rigassificatore. Allora mi sono andato a filmare quei cancheroni, c'è ancora ben scritto ESO Italia, se la ciolla guida la trova un ESO Italia a Milano e un ESO Italia a Roma. Allora, amiche che ho dito a far ante il Presidente dell'ESI, scusa Fabrizio, perché non te ciappi il telefono, non te che telefoni a sti signori e te che dici ragazzi, mi devo dare l'area in affitto a Praticello, adesso vieni qua, mi smontei i cancheroni e mi bonifichei tutto al terreno che avevi riempito dei idrocarburi, non ho bisogno di già fare riccato The Gas Nature che spendi 600 milioni per creare 25 posti di lavoro, ma scegliamo 60 persone. Quella che poi tra le altre cose, era un po' una bufala del fatto che dopo noi avremmo avuto il gas, perché va contro l'Europa, perché sarebbe qualcosa di non regolare. Non dovessimo pagare il gas dal 2000, perché quando sta fatta la centrale, la centrale del cogenerazione, la Lucchini ha detto con la centrale del cogenerazione che daremo gratis il gas, l'energia elettrica a metà dei triestini, perché il gas è vivo a produrre energia elettrica. Mi non mi sono accorto, anzi mi sono trovato in bolletta, sotto la voce sovrapprezzo termico, che pagavamo il kilowatt prodotto dalla centrale dei Lucchini due volte e mezzo il prezzo del mercato. Ecco, infatti il problema è questo, perché esiste un chip 6 che se ne parla poco, è quello strumento per il quale un'azienda che produce energia elettrica incassa tanti più soldi rispetto a quello che è il prezzo di mercato. Il problema qual è? Che noi andiamo a vedere un po', esiste un'autorità per l'energia in Italia, andiamo a vedere che noi abbiamo il prezzo dell'energia elettrica più cara, o tale più cara in Italia, parli con i vari di fornitori che non sono utilizzati e dicono, eh ma noi più di tanto qui non possiamo fare sconto perché è già lo Stato che ci mette del suo. Non è che noi, questi 4 milioni di euro circa che l'affariere diceva ogni mese dal chip 6, non facciamo altro che pagare noi, perché se no, forse è meglio spendere un milione di euro, lasciare tutti a casa e darla a pagare lo stesso e chiudere il separimento. Guardi che Bondi, siccome la storia, cioè bisogna capire il passato per conoscere il presente o viceversa se vuole. Allora nel 2001 perché Bondi a quel primo tavolo di cui facevo parte in regione guidato da Cosolini ha detto chiudiamo nel 2009? Uno si domanda perché 2009, non 2005, 2010, che è un numero pari, no? No, perché queste agevolazioni che non erano solo il chip 6, va di bene, avevano una durata di 8 anni, per cui la centrale è entrata in funzione nel 2001 e gli 8 anni scadi nel 2009. La centrale, cioè l'uso del gas di risulta di cocheria per fare insieme al metano, perché attenzione il gas di risulta dava il 51% del gas necessario, il 49% lo portava al metano d'otto, per fare l'energia elettrica veniva premiata questa energia elettrica in base a due leggi, vede anche qui, due leggi nate a fin di bene e gestite a fin di male. Una legge dice che siccome l'Italia ha finito il protocollo di chioto per la riduzione delle emissioni e chi più ne ha più ne metta, noi paghiamo chi è così virtuoso che rientra ben al di sotto dei limiti di legge previsti per le emissioni e trasforma queste emissioni in energia pulita, per cui primo premio. Seconda legge, siccome l'Italia importa un terzo dell'energia elettrica, vi ricordate il blackout quando è saltato l'elettrodotto con la Francia, un terzo dell'Italia al buio due giorni, importa un terzo dell'energia elettrica dall'esterno, l'Italia ha fatto una legge che dice mi premio chiunque produca autarchicamente, avrebbe detto lui, l'energia elettrica in casa, sia pur con un generatorino elettrico piuttosto che con una centrale, e per cui che la pago di più? Ovviamente in un regime di sostanziale monopolio che la paga di più l'Enel, che ovviamente se allora era ed è sostanzialmente ancora oggi di proprietà pubblica che la paga i cittadini. Allora queste due leggi fatte assieme provoca poi le agevolazioni, i CIP6 di cui lei parla si aggiunge come la ciliegina sulla torta, perché? Perché siccome scatta l'emergenza a Scovazze ma non a Trieste ma in Campania, in altre parti d'Italia, viene fatta una legge per cui per incentivare la costruzione di quelli che chiamano volgarmente termovalorizzatori ma più scientificamente inceneritori, gli danno di fare energia elettrica e per farla e per incentivarne la costruzione di fare delle scovazze di energia elettrica ti pago di più l'energia elettrica. Per cui gira e rigira il vero business, la cassaforte della Lucchini dal 2001 al 2009 e poi a oggi è stata la centrale di cogenerazione collocata a Servola di tutto il gruppo Lucchini che andava in passivo sul resto ma guadagnava e pagava dipendenti manodopera, materie prime, pagava tutto con i soldi nostri perché noi con le bollette e con il sovrapprezzo pagavamo la differenza. Quanto possiamo valutarlo circa per una famiglia meglio? Ma non l'ho mai fatto il calcolo, mi posso solo dire che sulla mia bolletta mi go questa cosa divertente e cioè sulla bolletta del Ciccolomiani che mi è stato fatto i capelli per i mesi di luglio e agosto, noi abbiamo 220 euro esenti IVA di consumo reale e arriviamo a un totale di 639 euro perché i rimanenti due terzi sono stati da servizi di rete di spacciamento e volete saperla l'ultima? No perché questa roba nessuno le dice, voi sapete che tutti noi paghiamo anche le spese di perdita della rete? A noi ci viene addebitato il costo dell'energia elettrica che gli elettrodotti perdi prima di entrare nel nostro contatore, cioè credo solo che in Italia, cioè se una rapina diceva io perdo però te chiedo i soldi a ti, non che li metto. Allora queste sono le bollette, ma tornando al discorso Arvedi, Arvedi ha fatto un uomo simpaticissimo. Io ti blocco perché io volevo, volevo veramente stare a parlare della seconda parte di Arvedi e poi alla fine di tutto non siamo neanche riusciti a finire la prima parte perché è una, insomma la storia di Arvedi è talmente lunga che probabilmente ma è molto semplice. Moreremo tutte e due che saremo ancora qua probabilmente. No, no. Allora io la settimana prossima devo assolutamente, c'è il faccio a faccio, non perdetelo, vent'anni tra Lega Nord e Trieste Libra sul TLT, facciamo un viaggio con Paolo Polidori e Roberto Giurastante e là vi assicuro ce ne sarà da ridere su più di qualcosa, però io voglio sapere se per due settimane, come ho detto Fogar, affrontiamo gli ultimi mesi di questa, tra virgolette, ultima crisi che sembra ciclica, non è come quando le donne hanno il ciclo, perché qua ogni volta succede, ogni volta succede e ce ne stiamo, torniamo un'altra oretta proprio a parlare di questi ultimi mesi di tracollo, ma perché? Parlando è per spiegare perché dobbiamo stare molto attenti perché tra poco, insomma rischiamo di ricadere, di buttarvi a tantissimi soldi ancora e di non aver capito nulla e probabilmente di fare altri molti, fra due settimane posso buttarlo. Molto volentieri, molto volentieri. Grazie per averci seguito, puntatona, anzi come questo, ecco io come state un po' vedendo stiamo cercando anche con Mattia Sande che cura alcune puntate di avere poca gente ma riuscire a capirci qualcosa, adesso facciamo sto calderone come ormai tanti talk usano fare di modo per fare ascolti, per le risse o altro, però poi alla fine fine non riusciamo a capire niente, a venerdì prossimo con TLT dalla Lega Nord a Trieste Libera con Paolo Polidori e Roberto Giostante, poi tra due settimane torniamo per parlare di Arveria anche perché sicuramente alcune novità le avremo, grazie, buon prossimo momento. A voi, buonasera.